Il Made in Marche protagonista ad Abu Dhabi. Dal 9 all'11 novembre scorso gli organizzatori di tipicità in collaborazione con la Camera di Commercio di Fermo hanno accompagnato una delegazione di aziende del nostro territorio nella capitale degli Emirati Arabi per prendere parte al festival Taste of Abu Dhabi, voluto dall'ambasciata italiana e dall'Italian Trade Agency. Operiamo parlando di Emirati in un territorio molto particolare perché oltre al mercato locale gli Emirati rappresentano un punto di incontro internazionale dove confluisce sia l'Occidente che l'Oriente, quindi un mercato interessante, un punto di incontro fondamentale. Tipicità si è resa disponibile ad organizzare questa spedizione per permettere ai nostri operatori e al territorio di promuoversi in questo importantissimo contesto. Quali aziende avete portato e come è andata, come è stata fatta anche la selezione? Allora innanzitutto sotto il profilo dei contatti è andata molto bene perché i nostri operatori hanno potuto confrontarsi con questo mercato, alcuni erano venuti già lo scorso anno, altri erano completamente nuovi. Abbiamo portato naturalmente le nostre eccellenze, innanzitutto il cibo che è l'attrattore fondamentale, cibo, vino, nonostante siamo in un mercato sensibile diciamo così e il vino è stato accolto con successo al pari degli altri prodotti. Con i prodotti enogastronomici, tartufo, anice verde di Castignano, marmellate, pasta, abbiamo realizzato dei cookie show, infatti abbiamo portato uno chef e un pasticcere che si sono esibiti di fronte al pubblico. Poi naturalmente il manifatturiero, l'altro aspetto per cui noi siamo conosciuti, le calzature innanzitutto di questo territorio, ma calzature vegan, quindi realizzate non con materie prime di derivazione animale ma con la canapa. Abbiamo portato il cappello di Montappone, del cartone di design per allestimenti, della meccanica di precisione e anche le energie alternative, quindi diciamo che è un discorso un po' a 360 gradi che spazia dalle tecnologie al fashion. Al centro della scena naturalmente il cibo, con i cooking show dello chef Luca Facchini che hanno esaltato le tante preribatezze del nostro territorio e i seguitissimi laboratori di pasticceria condotti da Marco Massi che ha proposto golosi e scenografici dessert a base di materie prime marchigiane. Una straordinaria esperienza ad Abu Dhabi, specialmente in un campo, la pasticceria nel quale noi italiani siamo maestri, com'è andata? Sicuramente è stata una bellissima esperienza, carica di impegno, di orgoglio anche perché presentavo in un territorio così lontano da noi delle tipicità del nostro territorio, della nostra regione. Ecco, c'è stata la possibilità di confrontarmi anche con altri pasticceri, altri chef provenienti un po' da tutto il mondo, è stata una bellissima esperienza per me. Cosa hanno apprezzato di più? Ma soprattutto la particolarità e l'eccellenza che mi posso mandare, solo noi italiani sappiamo dare. Molto apprezzate anche le esibizioni degli sbandieratori della cavalcata dell'assunta, inserite nel programma ufficiale della manifestazione. Accompagnati dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, i figuranti della rievocazione storica fermana sono stati letteralmente presi d'assalto dalla folla, a corsa numerosa in occasione delle loro performance. Si torna con una certa soddisfazione per, innanzitutto consentitemi come sindaco della città, per aver visto la soddisfazione dei nostri ragazzi, degli sbandieratori, anche la curiosità di tante persone, poi di tutto il mondo, perché lì trovi in maggioranza tranne che arabi residenti, insomma, perché diciamo che poi i cittadini sono il 12%. Quindi una bella soddisfazione per aver avuto questa vetrina, questa promozione, poi ripetuta anche in questi giorni, anche sulle televisioni nazionali, con passaggi sulle televisioni nazionali. Poi anche una soddisfazione per i nostri settori, diciamo, settori artigianali e in questo anche quello agroalimentare, quello della cucina, della gastronomia, che hanno potuto intessere qualche rapporto commerciale e soprattutto dare anche dimostrazione di quello che si può trovare venendo o visitando la regione Marche. Lo scorso anno i nostri sbandieratori erano andati a Dubai e quest'anno li hanno voluti richiamare. Adesso noi dobbiamo saper fare piccoli passi, perché la grande promozione mondiale credo che sia fuori dalla portata anche di un comune, però dobbiamo sfruttare ogni spazio possibile. Abbiamo distribuito molto del nostro materiale, molti ci chiedevano allo stand, soprattutto dopo aver visto gli sbandieratori e la tamburina presente. Noi dobbiamo seminare, abbiamo questo dovere di farlo in ogni possibile spazio, anche per recuperare la pochissima visibilità che Fermo, ma anche il sud delle Marche, hanno avuto negli anni. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare ogni momento. Grande attenzione è stata riservata ai nostri prodotti tipici e alle eccellenze del nostro territorio, dalle calzature ai cappelli, dall'innovazione manifatturiera alla meccanica, fino al campo delle energie rinnovabili. Gli emiri hanno già capito che il petrolio non sarà più la fonte del futuro, ormai è iniziata la terza rivoluzione industriale, sono le energie rinnovabili, il futuro dell'energia nel mondo, per cui se l'hanno capito loro che sono produttori di petrolio, come facciamo a non capirlo noi? Questa è una domanda a cui dobbiamo rispondere. Quindi dobbiamo puntare sul rinnovabile, sia per il nostro territorio che per il mondo, perché il petrolio non può più essere la fonte primaria di produzione di energia. Ecco, come hanno recepito la presenza della vostra azienda? Come è andata? Bene, loro hanno un piano comunque, un piano industriale già avanzato, vogliono entro il 2050 consumare l'ultimo barile di petrolio e hanno già fatto un grandissimo impianto fotovoltaico e ne faranno, nei prossimi anni ne sono previsti centinaia e centinaia di megawatt, quindi sono interessati al nostro know-how, perché noi siamo un paese, l'Italia, che ha molto fotovoltaico, ha molte energie rinnovabili, per cui sono molto interessati a noi e al nostro know-how. E infatti la vostra azienda si occupa di energie rinnovabili in particolare? È fotovoltaico, nelle marche, eolico, sia nelle marche che in Serbia. Bilancio positivo dunque per i componenti della delegazione fermana, che sono riusciti a farsi conoscere in un mercato fondamentale a livello internazionale, un mercato dove il 90% dei clienti è costituito da stranieri e dove nel 2020 si svolgerà la prossima esposizione universale. Abbiamo sentito commenti di grande soddisfazione e non fatti da chi organizza, ma da coloro che hanno partecipato e che in queste iniziative ci investono, perché noi sappiamo che noi possiamo dare l'organizzazione, possiamo anche contribuire in qualche modo, ma poi l'investimento vero e proprio dell'azienda che partecipa a iniziative come queste. Allora, sentirli particolarmente soddisfatti è un motivo di soddisfazione, un motivo anche d'orgoglio. Siamo alla terza edizione, vediamo che abbiamo, rispetto alle iniziative passate, abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi, aziende che hanno instaurato dei rapporti di lavoro. Quello che mi ha particolarmente colpito questa mattina è stato due o tre elementi. Va bene, sulla moda, il calzaduro, il cappello, noi sappiamo che nel mondo siamo conosciuti, ma vedere aziende, per esempio, del settore energetico, in un'area dove l'energia, forse non tutti sanno, che oltre al petrolio e loro il 70% delle entrate ce l'hanno sulle energie rinnovabili. Vedere aziende di questo territorio che partecipano e che hanno riscontri così positivi è effettivamente grande soddisfazione. La cosa ancora più simpatica è in un'area dove noi pensiamo, i musulmani che non mangiano carne di maiale, anche se lavorata, la cosa buffa è vendergliela invece. È vero, va spiegato, che la popolazione di queste aree sono per il 20% e invece questo è un crocevia del mondo dove chi compra, compra e non ha questo tipo di limitazione, però probabilmente non mi era mai capitato di pensarci perché in passato, ecco, vedere che siamo riusciti a vendere anche quelle cose che in quell'area sono quasi proibite. Questo è segno di gente che basta che si impegna e riesce veramente all'impossibile.